Trovo che la festa di Roma, la festa del cinema, è cresciuta negli anni, quindi da una proposta così un po' più artigianale, tra virgolette, perché sempre cose eccellenti si sono fatte, però è cresciuta perché trovo che Antonio Mondo ha fatto un grande lavoro di ampliamento anche proprio dell'idea, del concetto, comincia ad occupare anche spazi fuori in altre situazioni romane, a proporre degli incontri, delle cose. Quindi è un'idea di espansione del concetto, Roma è la capitale d'Italia per quanto bistrattata, però è una città che merita più rispetto, ripeto, da questo punto di vista. Io trovo che anche il programma di quest'anno sia eccellente, è internazionale da tutti i punti di vista, ci sono mille sfaccettature, quindi in fondo è una festa che al contrario dei festival giustamente non vive di questa competizione feroce, quindi non ci sono i lobbismi, le lotte interne, le giurie feroci, tutto questo in qualche modo alleggerisce anche la possibilità di scegliere, di navigare in più mari. Questo mi pare molto bello perché dà anche di Roma questa idea un po' più ecumenica, un po' più universale, quindi trovo che Mondo meriti dei complimenti francamente.